Quindi ho avuto questo momento di crisi in cui ho detto ma quasi forse era meglio rimanere youtuber, tanto non cambiava niente E poi ho detto no vabbè scegliamo questa via dell'inferno consapevole che è l'unico modo per fare grandi cose Io sono Luca, io sono Elio, io sono Paolo e questo è il Marketers Podcast Benvenuti al Marketers Podcast e con noi oggi c'è Marcello Ascani, benvenuto Marcello Grande Marce, benvenuto Grazie, ormai sono abituato, sono solo di youtuber, sarà la mia quinta apparizione Eh sì cazzo, ormai sei in tanti video di Marketers, in tante cose di Marketers, sei presente Marcello Ascani Le abbiamo fatte di cosa assieme negli ultimi anni? Nell'ultima avevo i capelli lunghi e i baffi bruttissimi, sono contento di apparire Ora invece hai messo un cappello per mascherare i capelli lunghi Ma stanno per tornare? No, no, no I baffi no, ma i capelli stanno a buon punto E' quello perché non ho tempo di andare alla barbiere Grande Marce, come stai? Tutto bene, è gennaio, vacanze di Natale le ho utilizzate per fare il grande piano E quindi adesso l'inizio è sempre bello, poi degenerano i mesi Andrà sempre peggio fino all'estate che sarò in burnout E poi si ricomincia con l'agosto E quindi grande piano, quindi poi da settembre fino a dicembre poi fanno in burnout Perché bisogna recuperare tutto quello che non si è fatto nei mesi precedenti Come è andato il 2023? Bene, sono un bell'anno di crescita devo dire Il mio, cioè diciamo che nella mia vita io faccio sempre il bilancio dell'anno Infatti tu ogni anno fai uscire il video quanto hai guadagnato e anche com'è andato il tuo anno In realtà il quanto è guadagnato è il clickbait perché poi lo dico in un secondo quanto è guadagnato Però la gente alla fine quello lo vuole perché se non c'è quello mi sa che non lo guarda Però racconto anche come è andato l'uomo, cosa ho imparato, cosa è andato male E alla fine il bilancio del 2023 è che ho imparato un sacco lato imprenditoriale Però che è stato un anno molto stabile Quindi casa a Milano, ufficio a Milano Prima volta nella mia vita con un ufficio, ufficio bellissimo Quindi bilancio vita lavoro ben organizzato Quindi comunque io staccavo di lavorare alle 8, dopo ce n'era non lavoravo Cosa che una volta non facevo, quindi tutte queste regolette che poi ho anche raccontato nel mio canale Figo, figo, figo E obiettivi per il 2024, quindi carico e abbiamo tempo di capire come andrà o di ricrederci Allora, a livello personale io ho fatto poco sport nel 2023 Cioè l'unica cosa che ho fatto è fare Yoga Academy tra l'altro Però poi ho smesso, dannazione Perché io ho fatto tutte le prime metà dell'anno e poi verso il burnout di fine anno ho mollato tutto Io trovo sta difficile, noi abbiamo lo stesso personal trainer Non so se però ti alleni ancora a questo punto Però due volte a settimana per mezz'ora non fai niente E io la mia difficoltà è, a me piace tanto fare sport e questo è quello che mi salva Cioè fargli sport, però per allenarmi, tipo lo Yoga tu dici ho mollato Io se non ho qualcuno che so che ho l'appuntamento e lo faccio con quella persona Ogni mattina trovo una scusa per dire Ma è mezz'ora in più a letto, leggo il libro, ho la chiamata Ma io ci penso, magari passo 30 minuti su TikTok e dico Allora vedi che ce l'ho il tempo di allenarmi Perché io potevo non passare 30 minuti su TikTok e allenarmi E poi passi altri 30 minuti su TikTok Facciamo uno step indietro direi Vai, vai, step iniziale che facciamo domanda che facciamo a tutti Vai Elione Come hai conosciuto Marketers? Perché oggi noi l'abbiamo già detto e magari poi lo approfondiamo Collaboriamo su tante cose diverse Sei stato al Marketers World, sul palco, hai fatto workshop, hai fatto video Abbiamo anche un progetto insieme O meglio ti aiutiamo nel tuo progetto che ti master Magari dopo ne parliamo meglio Ma facciamo questo step indietro Come ci siamo conosciuti? Ah, non me lo ricordo So che mi apparivate sicuramente sui social Sti stronzi che fanno se sponsorizzate, cazzo Ma secondo me neanche nelle sponsorizzate Mi appariva più Dario Vignali Ci sta Perché secondo me lui ha iniziato a spingere tra 2018 e 2019 con i contenuti E nel 2019 mi ha scritto se poteva venire a fare il podcast per il suo canale Non era un podcast, era un video di YouTube A casa mia però Io ero a Milano per un mese solo Perché io comunque già quando non viaggiavo spesso ero a Milano per provare a fare network e cose del genere Tu sei di Roma? Io sono di Roma Sei di Roma però per anni hai viaggiato quindi eri sempre in giro Io iniziavo a viaggiare gradualmente sempre di più dalla fine delle superiori Quindi facevo base a casa dei miei All'inizio magari passavo tre settimane a casa dei miei, una settimana fuori Poi due settimane, due settimane e poi alla fine non ci tornavamo più Questa casa non è un albergo Era proprio un albergo Era esattamente come un albergo E quindi Dario è venuto da te a Milano Ero in questa casa gigante, era l'ex casa di Barbara D'Urso Perché io avevo scritto un amico A Luca di Scacciati avevo scritto se poteva aiutarmi a trovare una casa in affitto a Milano Perché lui aveva vari amici a Milano E un suo amico aveva una stanza in più in questa grande casa di Barbara D'Urso Perché lui per lavoro che lavorava in Germania era stato spostato in Italia Io avevo preso questa mega casa e lui mi ospitava in questa stanza, in questa mega casa Lui non c'era mai E tu ne ero anche, quindi era perfetto No io c'ero, io quel mese di Milano me lo sono fatto tutto A Barbara D'Urso poi l'hai conosciuta? È venuta una signora sotto casa ubriaca a urlare Dov'è la Barbara? Dov'è la Barbara? Ed è apparso Marcello Ascani Sì E quindi si è venuto a registrare Abbiamo riuscito sul divano, c'è ancora quel video, è vecchissimo E abbiamo parlato di cose Io non avevo niente da dire secondo me perché avevo appena iniziato a lavorare Beh dai però facevi, cioè avevi già tanti anni dietro di YouTube Quindi sicuramente ne avevi di raccontare su YouTube Era la fase in cui ero fissato con la disciplina Quindi secondo me abbiamo parlato di libri di disciplina e di viaggi Secondo me è di questa roba qua, è di YouTube Che è già di YouTube Master in realtà Ci sta E invece in questa puntata dell'episodio vorrei concentrarmi su argomenti un po' diversi Quindi secondo me possiamo dividere il tuo percorso fino ad oggi Hai iniziato un'undicina di anni fa, mi dicevi, con YouTube In due Cioè la fase dove eri solo un content creator E quindi la tua giornata era passata sul Devo fare contenuti per YouTube Sì E una parte invece più recente, due o tre anni Dove abbiamo affiancato il percorso imprenditoriale Hai una tua agenzia, flatman, ti occupi di influencer marketing Quindi io mi concentrerai un attimo su questo dualismo E in particolare mi concentrerai su cosa ti ha spinto a un certo punto Da dire non mi basta più far tanto il creator ma voglio fare l'imprenditore Ok Allora diciamo che la parentesi da creator Fai che inizia nel 2013 Che non ero un creator Io volevo fare lo YouTuber Ok Perché per il mio canale ero lo superiori Quindi era 11 anni fa Io adesso ne ho 26 e ne avevo 15 Quella fase da wannabe dura fino alle superiori Dove comunque cresco col canale Inizia la fase dove già lavoro In che anno ti sei diplomato? Nel 2016 Ok E il 2016 è solo il primo anno che ho iniziato a lavorare infatti Era solo mezzo anno quindi quell'anno non è che parto la partita IVA Però poi la partita IVA la parte nel 2017 Dalla fino al 19 sono cresciuto sul canale Ho imparato tanto su come si cresce su YouTube e queste cose qua E il 2020 sarà un anno in cui io Anzi in realtà a fine 2019 In cui organizzavo il mio viaggio intorno al mondo Era l'anno in cui dicevo Ora io viaggio tutto il mondo finché posso E poi avevo già il pallino di fare l'imprenditore Cioè in questi anni post superiori Iniziavo a maturare un po' di interesse verso L'intreprendenza in realtà Quindi le storie degli imprenditori Lanciare qualcosa di mio O far crescere e scalare la mia attività Non sapevo cosa fosse scalare Però quello che volevo fare Era quello che adesso chiamo scalare fondamentalmente Ma non sapevo come si faceva Però dicevo adesso mi concentro sui viaggi Che mi impediscono di fare tante cose Tanti sogni nel cassetto che ho Però so che li posso fare adesso Poi magari dopo no E quindi dicevo Ora viaggio tutto il mondo Poi purtroppo in realtà il covid mi ha bloccato in anticipo Perché io almeno tutto il 2020 Era organizzato per viaggiare senza mai fermarmi Perché tu stavi facendo Se non mi ricordi In quel periodo lì Il progetto vivevi un mese in un posto diverso Eri a Bali Sì Io avevo fatto Stavo facendo ogni mese in un posto diverso Per cui avevo fatto Ero partito da Shanghai Dove sicuro Ho portato il colpo Ero partito da Shanghai Poi ho fatto New York Natale, Capodanno Los Angeles Costa Rica Poi sono stato a Bali Avevo già i biglietti prodotti per il Giappone E per l'Australia Che però non sono Non si è andato Esatto Non sono andato E sono tornato E quindi Poi tutto il 2020 Ero là che dicevo Vabbè se si riparte Riprendo il mio viaggio E faccio finta di niente Se no la do per persa E inizio a fare Quelle cose che veramente volevo fare Rosicando che non ho finito di fare Quelle cose là Però va bene E man mano che il 2020 andava avanti Ho iniziato a fare qualche progetto Un po' sono falliti L'hanno raccontato uno Nel mio vedere dei fallimenti Per esempio Ho perso 50.000 euro Il famoso progetter Vabbè Però poi sempre nello stesso periodo Ragionavo con i miei soci attuali Che sono ragazze di Gammy Ragionavo a fare questa agenzia Perché loro avevano già un'agenzia di pubblicità Diciamo Di marketing Quando c'è Gammy Gammy Industries Gammy Industries Esatto Loro sono un'agenzia digital tradizionale Tra virgolette Quindi fanno i siti web Fanno le campagne di branding Fanno queste cose qua E l'influencer marketing Non lo coprivano Loro mi chiesero informalmente Già nel 19 Di venire da loro a fare L'influencer marketing expert Ma io dicevo Che mica mi faccio assumere Faccio il creator Però poi a posteriore Io ho detto No facciamo società insieme Facciamo una nuco 50-50 C'erano varie opzioni sul tavolo Da fine abbiamo scelto quella Abbiamo già iniziato a organizzarla Da dicembre Quindi sono già tre anni In realtà che ci lavoriamo E poi è andata live a marzo Aprile marzo 2021 Ok quindi quando tu Cioè tu già volevi farlo imprenditore Quando poi hai iniziato Più concretamente nel 2020 A pensare a questo Cioè avevi idea di lavorare Nel mondo dell'influencer marketing O per come si erano posizionate le cose Hai detto Con loro potrei fare questa cosa È figo Non c'è voglia di partire In qualcosa da solo Quindi mi aggancio a questo Allora io non è che Cioè perché secondo me Scusa si interrompo Tanti dicono sempre Ma come ti viene l'idea Io dico tante volte Non c'è l'idea Ma è il fatto di Quello che stai facendo nella tua vita Quello che si sta creando Le relazioni E tante opportunità Ti bussano alla porta Qualcosa ti risuona di più Qualcosa di meno Metti assieme un po' di pezzi E poi dopo capisci cosa fare Ti ritrovi nelle cose Trovare un buco nel mercato Magari Se è stato il caso Allora In questo caso no Nel senso che È il classico esempio Dove un professionista Si espande E quasi inconsapevolmente Diventa imprenditore Quindi che è successo Io sì Volevo fare l'imprenditore Come idea Ma non è che ho detto Ora faccio un'azienda Perché voglio fare l'imprenditore Io in realtà volevo fare La mia agenzia Perché sapevo che Le agenzie non lavoravano benissimo E ho detto Sarebbe fico Se ci fosse un creator Che facesse l'agenzia L'ho sempre pensato Ho detto però I creator non lo vogliono fare Perché già fanno il creator Che lavoro molto più bello Ok questa è la teoria dietro Mi sono però ritrovato In un'occasione unica In cui effettivamente Poteva convenirmi Ad essere interessante Fare l'agenzia E quindi mi sono messo Come mai con ragazzi di cammi Semplicemente perché Io non sapevo veramente Dove iniziare E ho detto Se non voglio schiantarmi E impazzire Quindi smettere di fare il creator Ho detto Prendiamo delle persone Che sono già capaci Che già hanno tra l'altro Un'agenzia Quindi posso partire già Con una base di clienti Sia mia che loro Una base di processi Eccetera eccetera E sì sì E per questo abbiamo iniziato Però non l'ho vissuta Proprio come Ora divento imprenditore L'ho vissuta come Aggiungiamo un tassello Nelle n cose Mie lavorative Perché poi io da creator Già avevo rapporti Con le aziende Con le agenzie In questo caso è come se Avessi scavalcato un anello Se prima ero solo creator Che lavorava con le agenzie Che poi lavoravano con i brand Adesso era un creator Che era anche un'agenzia Per cui È un po' come Farezza che si è fatto L'etichetta discografica da solo È un po' quello il concetto È figo come ragionamento Quando si parla di Diventare imprenditori Fare gli imprenditori Cioè Non è che uno si sveglia Da un giorno all'altro E dice Faccio l'imprenditore Cioè ci sono Ci sono vari contesti Cioè c'è il contesto Dove magari tu hai già Degli imprenditori in famiglia E quindi ti ritrovi Che vivi Quella Quel mondo A un certo punto Dici voglio ereditare Voglio portare avanti io Oppure hai un'idea Perché sei un Inventi cose Allora dici Cazzo Voglio fare questa cosa Diventi un imprenditore Oppure Secondo me Il nostro caso Il caso più marketers Come personalità È Siamo dei professionisti Facciamo i professionisti A un certo punto Siccome abbiamo voglia Di intraprendere Di fare cose Di Di andare Di andare sempre avanti Non so perché ci viene Questa voglia Ma non fermarci mai Masochismo E allora lì A quel punto Dici come faccio ad espandermi E ti nasce E a un certo punto Diventi imprenditore Io ci ho pensato tanto A questa cosa Perché ho fatto anche un video Che si chiama Come diventare imprenditore Ok Non l'ho ancora visto questo In realtà Il titolo è un po' clickbait È semplicemente Tutto quello che io ho Imparato Quindi se non l'avete capito Marcello fa solo Titoli clickbait Abbiamo parlato Di due video tuoi Finora Vabbè accattivante Il video ti spiega anche quello Ma non è che una guida Dall'alto Ma ti spiega Tutto quello Che io ho capito Da quando ho iniziato Perché ho iniziato Senza sapere assolutamente niente E tante cose Mi si sono rivelate Negli anni E quello che ho capito Alla fine è che Degli imprenditori Che conosco La maggior parte sono O hanno ereditato L'attività Quindi sono figli Di imprenditori O se non l'hanno ereditata Hanno comunque Ereditato un'attività E loro non hanno aperto Un'altra Un grande classico Cioè papà c'è il ristorante Tu magari apri l'agenzia Che come primo cliente C'è il ristorante Di tuo papà Davide Dattoli per esempio Sì Ok Non so se ha fatto proprio così Però lui ha aperto l'agenzia E i genitori Vanno al ristorante Io lo chiediamo In questa sessione Di registrazione Esatto Ma tanti ne conosco Ho parlato adesso Con Alberto Dalmasso Il fondatore di Satispay Prima di fare Satispay Avevo un'azienda Con i genitori Quindi questa è una grande Fetta in Italia Perché sono tutte piccole Medie imprese in Italia Al nord ce ne sono Veramente tanti Ed è anche una grande fortuna Perché Cioè Essere contaminati Da qualcuno Che ha già fatto L'imprenditore Sì ma anche una condanna Perché tanti di questi Sono in famiglie Imprenditoriali Che non è che Hanno la mentalità Dalla Silicon Valley Hanno la mentalità Della piccola Medie impresa Dell'industriale E quindi Se tu gli dici Voglio fare le ads Magari ti prendono per il culo O ti prendevano per il culo O magari Devi aspettare Che tuo nonno C'ha 102 anni Prima di passare il testimone Capito? Quindi Alcune volte Fanno fatica Quindi quasi meglio dire Tipo nel mio caso I miei fanno gli impiegati Non mi frega niente Sono libero E faccio lo che voglio Sì però La differenza per esempio Anche io Ho dei genitori Che non facevano impresa E come dici te Ho imparato tutto Sulla mia pelle Cioè non ho qualcuno A cui potevo chiedere un consiglio Loro magari Non tanto nell'ereditare la cosa Ma magari dire Mio padre faceva il ristorante Io mi apro un'altra cosa Hai comunque qualcuno A cui magari poterti appoggiare Nasci in una cultura Non è obbligatoria Se ce l'hai bene Se non ce l'hai Non ce l'hai Hanno tutto quello Che io mi sono fatto negli anni Cioè hanno Già subito il commercialista di fiducia L'avvocato Commercialista madonna C'è una bella cosa Hanno subito questa infrastruttura Dove se vuoi fare una cosa La fai Delle procedure sui dipendendo Certamente alcune Quello c'è Comunque poi la seconda categoria È quella che dicevi tu C'è i professionisti che si espandono Immagina anche la Slim Dogs Tu inizi che sei un singolo videomaker Ti organizzi con l'altro videomaker Arrivano i clienti Poi sei costretto a mettere su Una struttura societaria E quindi poi ti ritrovi ad essere Senza neanche volerlo un imprenditore Certo Ed è la strada che fanno anche molti Che ne so Sei un designer E piano piano espandi Arrivano così tanti clienti Che poi decidi La strada O diventi una boutique Quindi rimani da solo E accetti quattro clienti super paganti Oppure appunto ti espandi Questo è un altro filone E poi solo il terzo filone Che secondo me È quello più raro Che io quasi mai incontro I imprenditori che hanno avuto Questo percorso È quello degli start-up Quindi sono un impiegato O non sto facendo un cazzo Mi viene l'idea geniale Ci sono anche questi casi E quindi Poi perseguo questa idea All'infinito Ma generalmente Non è così Tipo Alberto Dalmasso È andata così Gli è venuta l'idea Di fare Satispay E poi ha fatto Satispay Tanti altri start-up Cos'è un po' il start-up E secondo me Tra l'altro Parliamo della parte 2 Quindi del punto 2 Quindi quello dove È un po' il percorso Da professionista A imprenditore Il rischio Che tante volte ci vedi In questa È che tu sei un professionista Ti piace fare il tuo lavoro Da professionista Ok E dici a un certo punto Voglio fare l'imprenditore Voglio allargarmi E ti ritrovi che a un certo punto Però non fai più Quello che ti piaceva Fa il manager Esatto E quindi rischi di perdere Tutta la piacevolezza Che avevi In un momento Dici ma io che cazzo L'ho fatto a fare Questo percorso qua Cioè questa secondo me È una grossa insidia Di chi si ritrova A fare questo passaggio Io ero proprio in crisi Quando sono venuto A Ferrara A parlare con Dario E parlavamo proprio Di questo Cioè Con Dario dicevamo Certo però Non era molto più fico Cioè comunque Eravamo liberi Lavoravamo benissimo Non è che avevamo Problemi di soldi E avevamo tanto più tempo A dedicare a quello Che ci piaceva Adesso è tutto Stare dentro urgenze Gestire la struttura Fare task operativi Che non sono quello Che amiamo a fare No? Quindi uno pensa Perché lo faccio Quindi ho avuto Questo momento di crisi In cui ho detto Ma quasi forse Era meglio rimanere youtuber Tanto non cambiava niente E poi ho detto No vabbè Scegliamo questa via Dell'inferno Consapevole Consapevole che La via dell'inferno Mi piace Come descrive Marcello Scani Il percorso imprenditoriale La via dell'inferno Però consapevole Che è l'unico modo Per fare grandi cose Se no Rimango a fare piccole cose E mi piace E io conoscendo Mi ho detto Sicuro non rimango a fare Il credo per sempre Sicuro non mi sta bene Come dire Fare un tot di video E non scalare mai La voglia di Vedere fino a dove posso arrivare È troppa Quindi anche se È un altro lavoro Anche se è faticoso E ti viene il sangue amaro È l'unico modo per vedere Fino a dove posso arrivare Pensi che si possa Si possa chiamare Sto qua Pensi che possa essere definita Giustamente ambizione Ambizione Secondo me c'è anche un altro fattore Che è Quando sei un professionista Come professionista Per quanto tu possa essere bravo In qualche modo Scambi il tuo tempo Per denaro Perché c'è Fai youtube Ma non è che poi A un certo punto Smetti di far video youtube E continuerai a guadagnare Cioè ogni anno Devi continuare a far video youtube Il fare impresa È anche quel qualcosa Che invece ti fa dire Ok so che adesso Mi farò il culo Per due Tre Quattro Cinque anni Ma cercando di creare Un qualcosa Che possa funzionare Anche indipendentemente Da me Barra Magari poi ci rimani dentro Ma con dei ruoli Dove sai che Anche se tutti fermi Per un mese L'azienda continua A produrre un risultato Ma la differenza È proprio lampante Quando ragioni sul fatto Che il professionista Fa la professione L'imprenditore Fa crescere l'azienda Io quando parto SRL Avevo un'azienda Ma facevo lo youtuber Ero comunque un professionista Con gli steroidi Perché avevo la SRL Con flatmates Pensavo perché eri grosso Esatto Con flatmates Poi hai smesso di allenarti Flatmates quindi non ha gli steroidi Esattamente Ora sono un po' cicciotto Con flatmates Non faccio le campagne O ne faccio poca 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 Il mio lavoro è far crescere flatmates Poi la mia domanda quindi è Come faccio a crescere flatmates Se uno dei modi è fare anche delle campagne Perché è necessario Va bene Ma il mio lavoro è far crescere flatmates E io faccio l'attività A maggior valore aggiunto Per questo obiettivo Quindi ecco Hai detto bene L'attività ha maggior valore aggiunto Per l'obiettivo che dobbiamo Che è far crescere l'impresa Quindi voi siete Quattro soci Noi siamo due soci Io Persona fisica Ok E Gamindus Persona giuridica Al cui interno ci sono Due soci di minoranza E due soci di maggioranza Ok Operativamente poi Di soci Quanti siete operativi Su flatmates Due Due Ok E quindi come vi siete divisi Qual è l'attività che fai tu E l'attività che fa l'altro socio Allora Perché semmai questo è un altro tema importante Ok perfetto Faccio un'azienda Ok ma che cazzo fa l'imprenditore Su cosa si concentra Hai una giornata tipo O cambia di giorno in giorno Quello che fai Allora Michele È il mio socio L'altro amministratore Si occupa di tutte le questioni amministrative E diciamo Di business plan Ok Quindi lui crea il business plan Gestisce il file commerciale Da una cata al bilancio Ogni tot Gestisce il budget Dedicato alle risorse umane Quindi è Sono io che chiedo a lui Possiamo assumere una persona Quindi lui è gestione dell'azienda Sì Poi chiaramente la facciamo sempre in due Certo Però lui è responsabile Di questa parte qua Io sono sull'operatività Quindi sono responsabile Del successo Lo è anche lui Però del successo delle campagne Sono un po' più operativo Sulle campagne Magari conosce da fare uno scouting Sono più su Tu sei la parte più marketing e vendita Cioè tu sei ciò che porta dei soldi All'interno dell'azienda E lui cerca di capire Come ottimizzare questi soldi Allora non proprio Perché siamo entrambi sales Nel senso che io porto soldi Con i miei progetti E col mio Con il mio Diciamo Roster di clienti Che mi porto dietro Lui porta clienti Perché comunque come gambe Hanno vari clienti Che comunque sono un'azienda Che magari da sicurezza E tanti li portiamo insieme Cioè tanti arrivano sulla mail info E facciamo una cosa insieme Quindi la parte sales È un po' distribuita Io più che portare soldi Sono responsabile Proprio di quello Che fa Flatmates Quindi Flatmates Fa le campagne Le campagne Le campagne le fanno i ragazzi Ma i processi Su come si fanno le campagne Una mano E un volo dulce Su quello che succede Lo faccio io Raramente Michele Sa come sta andando una campagna Ok Tu in questo momento Sai esattamente Su quali campagne state lavorando Quali sono i clienti Creator coinvolti Esatto E come sta andando Cioè riesci effettivamente A non essere diciamo operativo E avere le persone Che sono operative per te O c'è ancora tanta operatività Che devi svolgere Piccola interruzione Per dirti qualcosa Che molto probabilmente Ti interesserà Infatti se stai ascoltando Questa puntata del podcast È molto probabile Che ti interessi Il mercato digitale E noi in Marketers Abbiamo creato Marketers Pro Marketers Pro è la scuola Che ti consente Di entrare nel mercato digitale E di sviluppare Le tue skills Nel digital Infatti abbiamo creato Marketers Pro Per un motivo ben preciso Consentire a tutti Di entrare nel mercato digitale E di portare A livello successivo Le proprie competenze Infatti al suo interno Troverai il percorso Pro Che ti darà le basi Su tutte le principali discipline Dell'online marketing E ti consentirà Di lanciare Il tuo progetto online Ma Marketers Pro È molto di più Una community Da migliaia di persone È una box Che ti arriva a casa Contenente anche Il metodo Marketers In descrizione Trovi il link Alla pagina di iscrizione All'interno della quale Trovi tutte le informazioni Trovi anche un bottone Per contattare L'assistenza clienti Se avessi ancora Qualche domanda Io non ti rubo Altro tempo E ti lascio al podcast Buon proseguimento No Sulle campagne Non sono operativo Sono impazzirei Sono pochissimo operativo Magari da una mano Noi facciamo ogni lunedì La call Sui progetti in entrate Ogni giovedì La call Sui progetti in essere E sui progetti in essere Ogni responsabile Progetto Dice Sta andando così Y, Y, Z E là io do il mio contributo Perfetto E se mi dice Marciano proprio bisogno di te Per questa parte Allora Poi ci faccio una call extra Comunque ci vediamo E risolviamo quel problema là Però no Il mio grosso Il mio tempo è speso In attività di Varissimo genere E va molto a periodi C'è il periodo Di fine anno Dove lei c'era La cosa più importante Perché fa tutti i rinnovi Quindi sei là a vedere Queste persone Cosa hanno fatto di preciso Perché tu vuoi Dei dati precisi Quindi vai a rivedere Tutto quanto Vedere la qualità Dei progetti Cerchi di capire Se hanno sovraperformato Sottoperformato Rispetto agli obiettivi E si fa in due Eh questo è il lavoro Che per forza Dovete fare in due Sì prima o poi Lo fa un HR No però ad oggi E in quel momento Era l'attività A maggior valore aggiunto Certo In questo momento Per me invece È un Probabilmente Inizia la fase Dei processi Per cui inizio anno Rivediamo tutte le cose Che possiamo migliorare Per essere più bravi E quindi adesso In questi giorni Vorrei rivedermi Il modo in cui Gessimo le campagne E cercare di migliorarle E poi c'è il new business O diciamo Le novità Per esempio Il software Per esempio Le nuove aree Che devono crescere Su cui sono Tipo il management Sono straoperativo Sul management Perché è una mega attività Valore aggiunto per me Perché se c'è un creator Che voglio far firmare In esclusiva con noi E lo dice una persona a caso Un conto Se glielo dico io Sicuro si fede di più Perché sa che sono un creator Generalmente è così E quindi su quell'attività Che so che ha valore aggiunto Mi ci metto io Poi Arriva il momento In cui passo il testimone Chiaramente Quindi diciamo che Cercando di riassumere Il tuo lavoro come imprenditore Inizialmente era Dove io posso dar valore Immagino che all'inizio Lo facevi te Poi subito trovare delle persone E ora piano piano E continuare a ripetere Questa scala qua Cioè mi metto io Dove posso dar valore Poi appena ho capito Posso proceduralizzarlo Posso mettere qualcuno Che lo faccia al posto mio Poi ovviamente ci saranno Ci saranno dei punti Come il discorso del creator Per quanto potrai trovare Una persona che lo farà Al tuo posto Ci sarà sempre un momento Dove poi quando tu vai Relazionati con il cliente Che chiedeva Ah grande Marcello Forse mi fido un pochino Di più ora E con il cliente La differenza è ancora Sostanziale Quando io ci sono Non ci sono Con un cliente Che mi conosce Chiaramente E quello Quello però Se lo vedi anche Nelle grandi aziende Rimane un'attività L'imprenditore Anche fare contenuti Cioè io i miei video Di youtube Anche se li farei In ogni caso Rimangono un'attività Valore aggiunto Per flatmates Perché il fatto Di essere un influencer È un valore per flatmates È un asset proprio Ed è l'asset più importante È uno degli asset più importanti No non è l'asset più importante Però è uno degli asset più importanti Beh io immagino Che nella trattazione Del creare l'agnuco E del decidere le quote E tutto Se tu fossi arrivato Marcello Ascani Che non è un influencer Mi avrebbero assunto Esatto Sarebbe finita Molto diversamente Mi avrebbero assunto Quindi questo è stato sicuramente Il tuo percorso da creator Il tuo personal brand È stato sicuramente propedeutico A portarti dove sei oggi E infatti se vedi anche I grandi imprenditori Che tu dici Questi non hanno il tempo Di fare nulla È tutto relegato Sulle PR Sono ancora molto attivi Per esempio Cioè A parte di Elon Musk Che è operativo su tutto E non si sa come fa Ce ne sono tanti Che sono il volto Della azienda E rimangono E fanno i contenuti E finiscono anche Sui post su Facebook E fanno le attività Di stampa Perché quella È un'attività A voler raggiunto E come fai? Questa è una domanda Molto interessante Prima ti svegliavi E tu eri un creator Quindi Perché comunque Essere il volto Di un'azienda Creare contenuto È un'attività Dove c'è tanta C'è tanta creatività No? Sì E il lavoro creativo Ha bisogno di tempo Ha bisogno di spazio Ha bisogno di un pochino Meno rumore Di quello che è tutto il lavoro Invece imprenditoriale Che anche lì poi Attenzione Magari ne parliamo È fondamentale distinguere Tra le urgenze E il lavoro Faccio due cose Ma la singola attività Da creato È molto più grande È importante C'è più cose da fare Nel 2018 Pensavo tendenzialmente A viaggiare E a qual era il video Da fare dopo Mi ricordo C'erano giorni In cui io non guardavo Le mail Perché è una cosa assurda Se non guardo Le mail per un giorno Mi salta la vita Probabilmente E c'erano giorni In cui non facevo contenuti Nonostante non c'avessi Un cacchio da fare Mi permettevo pure Di dire Ma oggi Oggi vi esploro Oggi non ho fatto un cazzo Ma non avevo finito Di fare un cazzo ieri Esatto Quindi oggi ho continuato Era la via del paradiso Quella Molto probabilmente Sai perché lo dico? Perché mi ricordo Il mio viaggio In Costa Rica Io in un mese Ho fatto tre video O io non c'avevo Nient'altro da fare Nient'altro Nient'altro Neanche i brand Che erano in Costa Rica Io non so come ho fatto A fare tre video Che cacchio ho fatto Il resto del tempo Non lo so E io pensavo di essere produttivo Perché correvo ogni giorno Facevo yoga Mi meditavo Grazie Grazie Però ci può stare Cioè Voglio dire Se funzionava Se comunque ti portavi A casa dei soldi Non è che c'era un obbligo Di dire cazzo Devo impegnarmi Devo fare di più No Infatti ero felicissimo E se non avessi È l'ambizione Poi che ti fosse Se non avessi Che nella vita Io voglio fare Voglio far crescere Le mie attività Io tornerei a fare Quello subito Chiaramente Adesso invece Come funziona È tutto organizzato Quindi anche l'attività Da creator è organizzata E rientra al calendario Con tutte le altre attività Io so che tendenzialmente Il 50% del mio tempo È allocato a flatmates E il 50% del mio tempo È allocato alla mia attività Da youtuber Si fanno giochi anche a vicenda Perché io su youtube Posso raccontare Sono molto più stimolato Come creator Ora con qualcos'altro Un problema è che Il creator spesso si aliena Perché facendo solo il creator Non ha nient'altro da raccontare Invece se hai Un'altra attività Un altro percorso Che ti stimola Puoi vedere mille cose Sul tuo canale Vuoi raccontare mille cose Ho una lista infinita Di video che voglio fare Adesso Riesci a tenere Questo bilanciamento Sempre attivo Cioè Effettivamente dedicare La metà del tuo tempo A flatmates E l'altra metà Al tuo processo di creazione Ma va a periodi Alcuni periodi Flatmates è più importante Perché magari necessita Il mio tempo In dei momenti Altri periodi Magari perché ho tante sponsorizzate Allora devo fare più video Mi è successo lo scorso anno E quindi magari Proprio trascuro Per un mese intero Flatmates Perché devo finire Di fare le sponsorizzate E poi come fai Cioè ti fermi e dici Ok ho dedicato troppo Poco tempo a questo Quest'altra cosa Devo recuperare Allora purtroppo Io sono stato tanto Dietro all'urgenza Lo scorso anno Per cui te ne accorgi Semplicemente Perché ti saltano le cose Quindi il progetto Su cui Che ne so In flatmates C'è un progetto Che so che ci devo Mettere attenzione Perché magari Non è gestito benissimo O io posso aiutare In un secondo Una cosa che magari Loro fanno in mesi Perché magari Basta la parolina E il messaggino Magari non lo faccio Perché sto facendo Le altre cose Però un po' Qualcosa si rompe Allora dico Cacchiarola E quindi spesso Spesso le attività Sono state guidate Dalle urgenze Quindi salta fuori Ok Quest'anno No Quest'anno dovrei riuscire A giocare d'anticipo Perché se no Non si cresce Pianificazione Assolutamente Noi diciamo Con Ema Con Emanuele Amodeo Il presidente Di Macri Accelerator Abbiamo fatto Uno special war Nel 2019 Diciamo Per farlo imprenditore Devi imparare Ad abitare il caos Se invece tolleri Che Cioè se tu non tolleri Che non hai tutto Sotto controllo Vuol dire che Moltomente Stai andando Troppo lento Quindi c'è Devi riuscire In qualche modo Ad abitarlo E sapere che La tua testa Deve andare Dove è più importante In quel momento Sapendo che Stai tralasciando qualcosa Per vederlo dopo Ma era meno importante Per l'obiettivo di crescita Magari che è dell'azienda Sì Io la vedo in questi termini Oppure semplicemente Col fatto che Molto probabilmente Tante cose Gli altri le fanno peggio Di come le fai tu E lo devi accettare Perché il tuo lavoro Non è fare quelle cose Certo Quindi devi riuscire A delegare delle cose Lasciando che le facciano altre Sì E poi Se io faccio solo Quello che devo fare Non rimango Di tra l'urgenza Ah no certo È che io poi mi metto A fare cose Che non devo fare Chiaramente Comunque Adesso la vita dei creditor È molto più organizzata E di buono C'è che anche Lo scorso anno S'era scandita anche Dalle sponsor Quest'anno è scandita invece Da una strategia Che non avevo Quindi ho imparato tanto In tre anni di flatmates Che posso ribaltare Sulla mia vita dei creatori Quindi Se io non avessi flatmates Comunque La mia vita dei creatori Sarebbe Imprenditorializzata Ho comunque Altri collaboratori Che ho Un lavoro personale Ho un'organizzazione Ho dei processi Infatti quindi Alla fine tu è come se avessi Due aziende Perché comunque Alla fine ti ritrovi Che devi gestire Il tè come creator Ma il tè come creator Ha un piccolo team Sì sì Ha un piccolo team Ha dei processi Diciamo C'è la grossa differenza Che io faccio Faccio i video Il business Lo faccio io Certo È come se fossero È una delega operativissima È una delega molto operativa Esatto Esatto Però si possiamo immaginarla Come una piccolissima media company Chiaro che è legata al mio nome Certo La Marcella Scannisteriale Non si può vendere Vendo l'anima al diavolo Marcella E quando fai Quando sei content creator Sì C'è ancora un po' Quel piacere Essere content creator Oppure comunque sia C'è sempre Quell'ombra sopra Di lavoro Dovere Nel senso C'hai quelle sensazioni Che c'hai quando eri Pischeletto Che sei messo su YouTube Ce l'hai ancora Quelle vibrazioni Oppure Ce l'ho Ma quando ero pischeletto Le vibrazioni Che piacevano a me Pacevano a tutti Cioè il viaggio In Costa Rica O a Bali La Maratona Che piace a tutti Molto più mainstream Ma è mainstream Adesso magari La mia vibrazione Sono i 40 minuti Di pozzo con l'imprenditore Che mi raccontano le cose Che magari alcune Sono così specifiche Che fanno vibrare a me Ma nel video le levo Perché non sono rilevanti Per chi le sta ascoltando Se le tengo nel mio cassettino Di così belle Beh ma alla fine Se ci pensi Io ho sempre un po' visto Su YouTube Come Racconto ciò che apprendo Racconto ciò che mi piace Eccetera E quindi anche l'evoluzione Cioè ora sei molto più Imprenditoriale sul tuo canale Sono di nicchia Eh sì Perché racconti cose Molto più vicine Però per te È un modo per imparare Che è un po' quello Che facciamo noi Cioè fare il podcast È portare gente A sedere qua Con cui dialogare E scambiarsi opinioni Iden con gli speaker Del marketer's world Comunque il mio obiettivo È quello di Tornare un po' più genuino Nel senso che l'ho ingolfato Tanto il canale Anche a causa degli sponsor Ma in generale Per come l'ho vissuta Perché Flatmates Comunque Prendendomi tanto tempo Mi ha schiacciato Poi la vita da creator E per un periodo Si vedeva che non avevo Le stesse energie La stessa voglia Adesso che sono Ben organizzato Mai organizzato Sta aumentando Tanto di più La voglia di fare il creator E attendere Io mi immagino Comunque Mi immagino Che il canale Smetterà di essere Un business A un certo punto Cioè è nato Che non era un business Lo è diventato E se non smetterà Di essere un business Lo spero Ma rimarrà là E poi il business Sarà esterno Beh diventerà Un asset Per altri business Rimarrà il mio personal brand E se poi vorrò lanciare La penetteria Una stupidaggia Un'azienda di Pikachu Sarà l'azienda di Pikachu Il mio lavoro Io immagino Fra due anni Ecco Da qui a due anni Spero di smettere di fare Il creator creator E ci saranno 780.000 iscritti Che non vedranno l'ora Di comprare Pikachu Raga Tolleri i compromessi Cioè Ti sei trovato Magari in tempi recenti A dire Cazzi io sto video Non lo vorrei fare Però lo devo fare No Sui video no Sui video poco Ecco Magari non lo vorrei fare In questi termini Così di fretta Ok O entro questa data Questo mi è successo Però no Comunque sui video Rimangono Rimangono la cosa più figa Che faccio Quindi Questo tipo di compromessi No Poi ho accetto Tanti altri compromessi Però sui video Il video no Come dicevo prima Ai tempi Ogni tanto Mi fregano Oppure magari Dover inserire Uno sponsor per forte In una roba Perché magari Era l'unico Nel solotto disponibile Ok Quindi devi trovare L'aggancio Per poterlo inserire Mi è successo Perché sono rimasto In ritardo Lo scorso anno In due occasioni A giugno In quel periodo Di metà anno E a fine anno Adesso Mi sono organizzato I due periodi di burnout Eh sì Perché sono Fine trimestre Fine trimestre Quest'anno Sono abbastanza organizzato Non dovrebbe risuccedere Onestamente C'è la possibilità Che io come creator Quest'anno Faccia meno soldi Perché vorrei Dedicarmi tanto All'attività Di cui non si vedono Risultati subito Magari Appunto Mettere su Ancora meglio Il mio team Ragionare A delle espansioni Di contenuti Magari in altre lingue O altri formati Cosi che prima Devono funzionare E poi le puoi vendere Chiaramente Questo rientra In l'ottica dell'investimento Perché investimento Non è soltanto Metto dei soldi A disposizione Di questa cosa L'investimento è Sono disposto Su un fronte Guadagnare meno Per costruire qualcosa Di più grosso E una cosa Notata Che io non riesco A crescere Da questo punto di vista Se non ho del tempo Per stare fermo E non stare dietro All'urgenza Te lo imponi? Eh me lo sto imponendo Per quest'anno Cioè io non sto accettando Tutti i brand Che posso accettare Non sto accettando Ovviamente tutto Perché io a calendario Ho degli slot Già fissati Con scritto grande piano Ok Devo portare avanti Il grande piano E sono attività Che io ho segnato Però sono attività Che non sono urgenti Però le devo fare Tipo Riscrivere i processi Tipo Cercare i contenuti Online in inglese Che posso iniziare a fare Tipo cercare i modi Di automatizzare I miei processi Con l'intelligenza artificiale Tutte cose Che magari Ma secondo me Questo è il grande dilemma Dell'imprenditore Cioè che noi troppo spesso Ci ritroviamo a fare A risolvere problemi A occuparci delle urgenze Ma le urgenze Non sono ciò Che fanno crescere Il business Nel lungo periodo Ma sono ciò Che ti portano avanti Nel breve periodo Ma più tu risolvi Le urgenze Ti dedichi alle urgenze Meno crescerai Nel lungo periodo Sì esatto Quindi è un compromesso Per questo dico Forse farò meno soldi Quest'anno Perché devo rinunciare A qualcosa Ad adesso In previsione Di una futura crescita Nel lungo periodo Esatto Possiamo dire Che anche per noi Una migliore organizzazione In questo senso È assolutamente Un obiettivo di quest'anno Perché sull'anno scorso Ci siamo confrontati Tante volte Dicendo cazzo Ci troviamo A riunirci A parlare di futuro E tutto quanto Spesso davanti a un'urgenza Sì Cioè spesso davanti A qualcosa che si rompe Qualcosa che non va Invece Probabilmente Tutta la differenza La si fa in quei momenti Perché è ciclico Anche assumere Anche assumere e spendere i soldi Io ho capito che Come persona fisica Io Marcello Ascani Voglio mettere i soldi da parte Chiaramente Sono un gran risparmiatore Ma come azienda Marcello Ascani SRL È stupido invece Pensare in questi termini Io Tutto l'utile che ho fatto Dello scorso anno Con l'SRL Se avessi avuto un modo intelligente Di investirlo per scalare Ma l'avrei dovuto fare Ma perché non lo so fare? Perché sono solo dietro all'urgenza E non ho neanche il tempo Di capire come scalare Certo Io ho assunto persone E non ho saputo cosa Non ho avuto il tempo Di capire cosa fargli fare Cioè ho preso un collaboratore E io ho detto Ora tu mi aiuti in questa cosa Non era la cosa perfetta Quindi non riuscivo ad aiutarmi In quella cosa là Non ho avuto per mesi Il tempo di prenderlo E spostarlo su un'altra attività Perché non ci stavo nei tempi Questo è gravissimo Quindi se invece uno si ferma Trova il modo di far fare La cosa giusta alla persona Magari investe in altre persone E poi quando si riparte È tutto più organizzato Ma se non è quel momento In cui ti fermi Matt D'Avella insegna Appunto lui ha fatto Esattamente questo problema Cioè lavorava di più Con un team di 10 persone Che quando lavorava da solo Perché non è riuscito A essere un bravo manager E non vuole esserlo Infatti è fatto fuori tutti Marcello sta parlando Di un video che è uscito Da poco Metteremo il link Nella descrizione Di Matt D'Avella Che per chi non lo conoscesse Metteremo il link Nella descrizione Quel video è stato veramente È stato assurdo Perché io ho fatto Gli stessi identici ragionamenti Tutto l'anno E poi a fine anno Uscito questo suo video Ma D'Avella Tra l'altro è un youtuber Che io seguo Nel sacco di tempo Che parla di produttività Spiegamolo in due termini Ma D'Avella è uno youtuber È cresciuto tanto Come tanti youtuber americani Ha assunto personale Per crescere A differenza di altri È andato in burnout Come mai? Perché ha detto Cavolo io ho preso 10 persone Per lavorare con me Per fare mille cose Ma non solo non riesco A fare queste mille cose Perché devo gestire le persone Perché? Perché per fare funzionare Questa roba Devo diventare un manager E lui non è diventato un manager E quindi ha detto Ma sai cosa? Rimango a fare il creator Funziona comunque Guadagna uguale Non fa la fame Perché c'è un milione di iscritti E fa quello che può fare Nel limite del suo tempo Lui piace addirittura Montare i video Quindi li vuole montare lui È capire cosa uno vuole fare Della propria vita L'opposto Questo è fondamentale Perché se tu non lo capisci Sei fottuto Perché pensi di fare Quello che la gente ti insegna E YouTube Come dice Matt Avella Cioè in questo momento qua È bombardato di Devi crescere Devi fare soldi Devi guadagnare velocemente Esatto E questo ti porta a dire Cazzo ma allora Anche io voglio crescere no? L'opposto è Ali Abdal E non è per forza Lui nel video intervista Questo Ali Abdal Che è un altro YouTuber Di diciamo produttività Che è un po' il suo alter ego Con la differenza Che Ali Abdal Ha un team di 10 persone Ma vuole fare il manager Esatto Dice di no Perché ha assunto un general manager Ma lui fa il manager Chiaramente Fa l'imprenditore Gli piace l'idea di lavorare Con altre persone Crescere E fare progetti diversi E non è un artista Cioè non gli piace montare i video Non gli frega niente L'unico obiettivo È che siano funzionali Cioè è proprio un modo diverso Di vedere le cose Sì Ti consiglio un altro video Che ti manderà fuori di testa Che è di Sam Ovens Ok Di qualche anno fa Che anche lui racconta Come ha ridotto il suo team Da 30 persone a 6 persone E ha aumentato La sua felicità I suoi guadagni E tutto Comunque E ti spiega Sembra è molto bello Quel video lì Perché ti spiega Cioè lui dice Avevo tante persone Ma alla fine queste persone qua Mi mantenevano E delle situazioni in cui ci troviamo Un po' in Marche Tante volte Abbiamo delle persone Che ti mantengono Uno status quo Ma non ti portano A fare quel di più E ci sono invece E quindi c'è Tu inizi a dire Ok questa persona qua Non posso toglierla Perché fa questa cosa qua Cazzo ma questa cosa qua Non posso toglierla Invece poi ti accorgi Che se tu togli delle cose Non cambia nulla Ti faccio un esempio In Marketers Quest'anno Marketers Pro È uno dei nostri prodotti di punta Avevamo le ads Che andavano Guardavamo E dicevamo Non capisco Cioè Queste vendite ci arriveranno dalle ads Ma se non arrivano dall'organico Ne parlavo con Dario È stata un po' di discussione Poi no raga Non spegniamo le ads Ma siamo pazzi Cioè spegnere le ads Si chiamano di far crollare tutto Abbiamo smesso di usare le ads Per tre mesi Eh? Le vendite sono state uguali Esatte È molto comune questa cosa Capito? E quindi lì inizia Abbiamo iniziato a domandarci Dicendo Ok Fermi un attimo Allora L'organico Ci sta portando questo Investiamo sull'organico Quindi Guarda che non riguarda Tube Master Ogni volta ci fa Ci fa penare Ora vi rimando Ora vi rimando Però è così E quindi allora inizia a ripensare Tra l'altro con te Cioè questo podcast qua Se c'è È anche merito A una chiacchierata Che abbiamo fatto assieme Quando eravamo amici Il contenuto organico È il futuro Il contenuto organico Cioè noi avevamo i gruppi Facebook All'epoca E eravamo fortissimi Per fare il contenuto organico E sono morti i gruppi Facebook E siamo calati molto Nel contenuto organico Cioè quindi Tante volte Rimettersi lì Pensare Farsi domande Capire quello che sta facendo Riuscire anche Anche se ci sono delle urgenze A dire Fanculo Sì Lasciamo allestare Perché ho bisogno Di concentrarmi E capire dove devo andare Aiuta molto nel ricalibrare Nel riorganizzare meglio Due cose La prima è È il discorso di Samovans No? Però anche lui Sta scendendo a compromessi Col fatto che non scala più Perché se da 30 passa a 6 È ovvio Che aumenta la produttività Anche noi se da flat mess Da 10 passiamo a 2 Ci teniamo i due più bravi Che gestiscono il grosso del fatturato Ci perdiamo il 20% del fatturato E con due persone Facciamo il 80% del fatturato Però poi ci fermiamo Chiaramente Se vuoi continuare Che vende a crescere Accetti anche l'inefficienza Che è gigantesca Però tante volte sai cosa? C'è una differenza sostanziale Tra quello che è il fatturato Ok Ma poi quello che ti porti a casa Cioè è l'utile Perché se parliamo di Samovans Samovans se non sbaglio Era arrivato Era arrivato a fatturare Con quella struttura là Circa 30 milioni L'anno Tu dici cazzo 30 milioni all'anno Sì Spendeva quasi 2 milioni 2 milioni al mese In ADV Quindi già hai fatto E poi devi pagare Queste 30 persone Poi questo Poi quello In realtà è molto probabile Che abbia diminuito tantissimo Il suo fatturato Ma L'utile È la boutique È la boutique Sì è un classico Un classico In parte Chiaramente bisogna fare efficienza Anche quando sei grandi Immagino che Se tu assumi Sei dipendente E due non lavorano Quindi devi fare fuori Chiaramente Però è normale Che se sei tanti C'è un po' più di inefficienza Ci sono cose che non subito Ti fanno crescere Ma devi aspettare E poi come dicevi tu Cioè noi a Mykonos A Mykonos mi avete fatto esplodere la testa Perché abbiamo parlato Un sacco di futuro Di cose da fare E poi sia io Che voi Per me sì Non le abbiamo fatte Perché voi siete tornati La vostra routine Io la mia routine E poi qualcosina Si è messa in modo Perché poi Quel 5% Del tempo allocato Al new business Esiste Esiste Quindi quel 5% Che voi allocavate Alle idee nuove L'avete fatto L'avete trasformato Nel podcast nuovo Io magari Nella mia nuova organizzazione Quel 5% Deve diventare Il 40% Il 60% E questo Se me fa tanto Anche riuscire Tipo noi tante volte Un errore che facciamo è Facciamo una pianificazione Inizio anno Sì Poi capitano cose Durante l'anno Fighe E noi ma sì Dai facciamole È bellissimo farle Ma dovevamo Questo è più figo Eh sì E questo è La sindrome Allo yes man Che c'è anch'io Io ce l'ho identica Io mi ricordo Il 2022 Mi ero fatto lo stesso discorso Mi devo fermare Mi devo fermare Vuoi andare un mese e mezzo In Cile Sì Vuoi andare un mese In Antartide Sì Tutto saltato Tutto mi hanno inculato così Proprio Ma è normale Infatti quest'anno No man E c'è un altro C'è un altro Un altro modo di dire Che è Hell yeah or not È il libro di Derek Siever Esatto Bellissimo quel libro O una cosa Io non l'ho letto Però ho letto riassunto Di tanti libri Ho letto riassunto Call Newport Nessun O una cosa Hell yeah è perfetta E quindi è perfetta Quindi la fai O tutte le cose Ti mettono in dubbio Non le fai Io sono pessimo in questo Faccio solo cose Sì anch'io Non lo so Sono bravissimo A giustificarmi Che quella In verità È un hell yeah Anche se non lo è Ci credo troppo Però c'è anche da dire Che l'entusiasmo Con il quale prendiamo le cose Molto spesso È hell yeah Per tutto Sì Bisogna imparare Senza bisogna di costruirlo No infatti bisogna imparare Cioè io penso Che il nostro entusiasmo Nel dire tanti sì Comunque ci porta a essere Dove siamo oggi Se no Molto gente non lo saremmo stati Ma a un certo punto Se non impari a dire dei no È finita Luca ti stai rigiustificando Un'altra volta Perché tu Sei yes man Quando non hai opportunità Puoi inizi a averne troppe E diventi non man Prendi solo quelle che servono Chiaramente A proposito di questo Non facciamo troppe cose Facciamone una soltanto In questo momento Che è mettere Un like a questo video O iscrivervi al canale E aiutarci al nostro obiettivo Che non sapevamo forse Ma è Di arrivare il prima possibile A 30.000 iscritti Siamo a metà 30.000 iscritti Siamo a metà dell'opera Quindi Un po' più Minchia Siete già 15.000 iscritti Eh sì Bravi E quindi il nostro Il nostro grande obiettivo è questo Aiutateci con un'iscrizione Se ci state guardando su YouTube Valutateci Stellinateci Se invece ci state ascoltando Su Spotify O su qualsiasi altra Piattaforma di streaming Perché più della metà di voi Ci segue Tutti gli episodi Senza essersi iscritto O aver messo un like E questa cosa Non va bene Questo ce l'ha Bellissimo Ma è venuto in mente Mister Nobody Andy Che lui adesso A fine di ogni video Ci raccontava Finisce il video E fa vedere la schermata Del video precedente Dove dice Questo video L'hanno guardato Un milione di persone Il 70% Non è riscritto al canale Il 30% è riscritto Com'è possibile Guardate il video Non iscrivetevi Vedete questa strategia qua Effettivamente Li sta portando ad alzare tanto La percentuale di iscritti Allora Lo fanno Tanti youtuber americani Lo fanno Figo però Esatto Se devo essere Dichiarare l'obiettivo Dichiarare l'obiettivo Cosa avevo appena fatto È una cosa che ho Rubato a Geopop Perché loro E sono cresciuti In maniera esponenziale Da quando hanno cominciato A fare questa cosa qua Cioè dire Se tutti quelli Che ci guardano Mettessero Si iscrivessero oggi Saremmo 2 milioni Un milione E infatti loro sono passati Tipo dei 300 mila Al milione di iscritti Niente Solo grazie a questo Non al contenuto No Ovviamente Dovremmo aprire un canale Dove non facciamo nulla Se non in tutto il video Dire ragazzi Io voglio arrivare A 100 mila iscritti Se stai guardando Questo video Se tutte le persone Quattro persone Esatto Deve essere figo Come titoli Solo fai questo Come discorso Però lo dirò In un mio video Lo dirò Perché è tanto Che non dico la gente Di iscriversi Ed effettivamente Potrebbe essere Ok se vuoi dire Anche alle persone Che ci stanno seguendo Qua di iscriversi No 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 Ti faccio una domanda Parlavamo di delega Ok E parlavamo che tu All'interno del tuo progetto Come creator Ok La delega È una delega Meramente operativa Immagino che sia appunto La delega Nel aiutarti nel gestire Le mail Aiutarti nel montare Il video Eccetera eccetera E invece In flatmates Immagino che c'è O meglio immagino Facendo anche un percorso Di imprenditore Si parte con una delega Super operativa Però poi man mano Devi delegare anche Cosa un pochino più Di responsabilità Si Cioè come sta andando E come ti sei trovato Più che altro a vivere Questa cosa Che magari non avevi mai fatto prima Si Allora diciamo che Come ti dicevo anche offline Ho affrontato tre barriere diverse Cioè tre momenti in cui Mi riuscivo a difficile delegare Perché la prima volta Perché non l'ha mai fatto Quindi anche se lo fatti aiutare Tipo per il montaggio video Ti riesce difficile Però poi lo fai E deleghi un pezzettino Però appunto come dicevo prima Quel video io Lo giro Lo monto la mia idea Lo faccio montare Seguando le mie idee Poi torna da me E faccio la revisione finale È come se lui fosse Le mie mani E i miei occhi Ok Quindi quello è facile Delegare Poi si passa alla responsabilità Che è quello che è successo In Flatman Secondo che abbiamo aperto Cioè tu devi dare Un intero cliente in mano A una persona O un intero progetto E se il video va male La responsabilità è mia Se il progetto va male La responsabilità è sua Quindi tu stai Delegando proprio la responsabilità E quindi devi avere persone responsabili Che però In questa cosa ci siamo riusciti Nell'arco sicuramente del 2022 E anche 2023 Lo scorso anno Le persone avevano proprio L'obiettivo di essere responsabili Dichiarato Cioè a fine anno abbiamo detto Tu sei stato bravo Ora mi fido di te Cioè ti do in mano il cliente Il brief Sparisco Torno So che tu hai fatto le cose Come dovevi farle Adesso c'è un'altra sfida Ora che Flatman Si è un po' cresciuta L'abbiamo divisa in aree Ogni area è il suo responsabile E queste persone Tutte in realtà Adesso vorremmo Che non solo siano responsabili Quindi siano affidabili Noi vogliamo Che queste persone Diano del valore raggiunto Cioè che se io sparisco E torno Non solo è successo Quello che dovrebbe succedere Ma magari è successo Qualcosa in più Magari hanno fatto Una roba che io non farei Magari hanno Persone più brave di te Nel fare quello Che grado di libertà Bisogna dare Però per fare Cioè Vieni qua Poi vieni a chiedermi L'approvazione Oppure fai Basta Informami quando hai fatto Sulla carta Sono liberissimi Poi è chiaro che Secondo me Loro stessi Per evitare di fare cazzate Chiedono tante approvazioni Specialmente a Vareso a gennaio Tanti hanno appena iniziato A gestire queste cose qua È la sfida di quest'anno Quindi lo scopriremo Lo scopriremo Da quello che abbiamo visto Noi Quello che ho visto io È difficilissimo Nel senso che Bisogna trovare Il giusto compromesso Tra Il quanto Dargli approvazione Sì E il quanto invece Abituarli Che è meglio Che sbaglino Ma senza aver chiesto L'approvazione E poi piuttosto Non cazziarli Ma dirgli Il perché L'avresti fatto in modo diverso Cioè Trovare dove serve L'approvazione Su determinate cose Ma su altre cose Dire È meglio che tu sbagli E poi piuttosto Io ti faccio notare Che si poteva anche Fare in modo diverso Ma che Abituarli a Ti blocco sempre Prima che lo fai E quindi poi uno dice Cazzo Non ho coraggio Di fare Di sbagliare Chiaro E legandomi anche al Tornando al discorso Delle urgenze Un'altra cosa Secondo me Che ti cambia la vita È dedicare tanto Tanto tempo A trovare la persona giusta Perché io Di solito Faccio le cose al contrario Cioè prendo le decisioni In poco tempo E poi affronto i problemi Ed funziona quasi sempre Nella mia vita Quella assunzione Non funziona Cioè ho i culo Tipo io in Flatmates Ho avuto abbastanza culo Per cui Le primissime Due o tre persone Che abbiamo preso Erano perfette Per Flatmates Proprio così Ma man mano Che andiamo avanti Ci rendiamo conto Che se io voglio Una persona Che da valore aggiunto Devo proprio cercare Quella persona Me la devo immaginare Come la voglio La devo cercare La devo trovare La devo convincere Magari anche pagandola tanta Però pagandola tanto La devo convincere A venire da noi È proprio un lavoro di ricerca Non è Vado sulla mail cv E il primo che mi sembra Sanno mentalmente Lo prendo Come faccio Magari quello va bene Se sto delegando Una roba meravigliamente operativa E quello però lo fai solo se O hai tempo O hai già un HR Noi non siamo ancora Abbastanza grandi Da avere un HR Ma prossimo anno Se la nostra crescita Lo permette La prima cosa Che prendiamo è un HR Una cosa comune A tutte le aziende grandi Gli imprenditori forti Che ho sentito È che Specialmente nella fase iniziale Una grossa fetta Dell'energia Del loro team Era dedicato solo Alle assunzioni In Satispay 20 persone Fanno solo assunzioni Nient'altro Minchia Non nei HR Su 600 Non nei HR Sono tantissime 20 20 Ma in In Bendy Spoonz Quando erano in 200 50 Un quarto Solo assunzioni Solo assunzioni Perché fa tutto Anche perché tante volte Noi pensiamo C'è almeno un errore Che io ho fatto spesso È che quando penso alle assunzioni E noi siamo già fortunati No? Tu con il tuo canale Noi con la community È quello che ci ha salvato Ci ha salvato Però ti salva soprattutto Nei primi ruoli Perché sono persone che ti seguono Sono persone magari molto simili a te E tutto Ma poi quando anche tu inizi a scalare Inizia ad avere bisogno di persone Che sono fuori magari dal tuo raggio O che se sono nella tua community Non sono magari loro che ti mandano il curriculum Ma sei tu che devi scovarle Nella tua community Dire Oh tu sei perfetto per questo lavoro Sì E loro magari lavorano già da un'altra parte Cioè Tante volte quando tu pensi alle assunzioni Pensi Ok devo assumere Io butto fuori un'offerta di lavoro Chi vorrà verrà E invece no Perché le persone migliori Magari sono già in un'altra azienda E sono anche contente di stare in quell'azienda E quindi tu devi capire Come arrivo io a prendere quella persona Che lavora lì Perché questa cosa la farà bene da me Però è così Sì E infatti io Con la mia community di YouTube Un obiettivo che ho quest'anno È di iniziare a utilizzarla Veramente per scovare talenti E sto Probabilmente farò una sorta di sfida Sbarra hackathon E mi ci dedicherò per bene Dovrebbe essere anche divertente Devo capire quando farla Però insomma Quello è un modo per dare in pasto Cose pratiche alla gente E se c'è un genio in mezzo alla folla Lo trovi in quel caso Perché emerge E però Bisogna una struttura tipo Io non faccio live Insomma le live sono utili Per scovare questa gente E non ho discord O telegram O cose del genere Dove puoi vedere Chi si mette in gioco Esatto Perché l'app si fa anche Progetti open source Tu dici ok Costruiamo un software Che fa questa roba qua Bolo lascia open source Soprattutto la community Due termattiche Magari ci lavorano Non lo trovi E allora poi li prendi Dici ok Questa roba ora la fate con me Mi dai soldi C'è anche un contro Pur benedicendo ovviamente Il fatto che possiamo attingere Alle community ovviamente C'è anche un contro Del quale mi sono reso conto Cioè È capitato con qualche persona Che non ha neanche superato Il problema è apposto Ben due persone Che io ho chiesto Per il mio team personale Mi hanno detto Ah ma non era un annuncio Per flatmates Io con te non c'ho io Perché loro sanno Che se lavorano diretti con me Io vi faccio il culo Perché sono severissimo Con i miei Mentre in flatmates La situazione è più tranquilla Ci sono gli off-site Ci sono tutti da remoto Diciamo È perfetto Meno sul personale Perché è flatmates Quindi c'è più diffuso Su me è un po' questa la cosa Dopo questo podcast Dovrai un sacco di gente Che vuole lavorare con te Il profilo colorato con me Di solito è quello che Masochista È quello che è masochista come me Esatto Esattamente Quali sono Hai trovato Nelle varie assunzioni Che hai fatto Sia per te Che per gli altri Dei tratti comuni Che cerchi C'è qualcosa che dici Io quando guardo Un curriculum O comunque faccio un colloquio Con una persona C'è un qualcosa Nello specifico che guardo Ma secondo me Le cose banali Che comunque non sapevo Perché le cose banali Neanche le sapevo Però tendenzialmente C'è Se già mi conosci È già un punto in più Chiaramente Perché già conosci il contesto Eccetera eccetera Generalmente sono persone Che So che è banalissimo Ma dire Però sono molto entusiaste Di quello che andranno a fare Per esempio In flatmates Emanuele Che è stato il nostro Secondo assunto Però il primo ora Se l'è andato Quindi è il più anziano L'opera di anzianità Il senatore Lui è super appassionato Del mondo dei creator E all'inizio Quando lui doveva Anche adesso lo deve fare Contattare un botto di creator Comunque la roba lo stimolava E lo vedi che C'ha le idee Propone E la sua passione Altre persone Quando si candidavano Per chi vuole lavorare in flatmates Per l'ambiente di lavoro Va bene Però è una cosa completamente diversa Ti piace l'ambiente di lavoro Quindi va bene Ti piace l'idea Che l'avremo da remoto Ti piace l'idea Che facciamo i viaggi Non ti piace Il tuo attuale datore di lavoro Che invece ti costringe nel cubicolo Però poi le cose da fare Cioè è proprio un discorso Di principi Completamente differente All'inizio questa cosa Non la vedevo tanto Ora la vedo tanto E poi ci sono i progetti pratici Cioè secondo me Una persona Prima di prenderla Un minimo La devi mettere alla prova Cioè non basta Fare il curriculum Cioè vedere il curriculum E fare il colloquio Secondo me Questa cosa non esiste Nella Marcello Però dovremmo farla Bending Spoonce la fa Per esempio Un test minuscolo Però quanto basta Per vedere se loro Da soli hanno L'intraprendenza Di risolversi un problema Mettersi in gioco Per fare una roba Che non sanno fare Quindi un test Per flat means potrebbe essere Ecco il brief Trovami creator Che ne so E loro lo devono fare Sapendo che non lo sanno fare Allora lo vedi subito Chi è bravo È interessante questo Perché infatti il problema è Che tante volte trovi persone Che sono talmente stimolate A lavorare con te O con l'azienda Per l'ambiente E tutto E poi magari quando entrano È un po' come se si siedono Cioè come per dire Vai ho raggiunto l'obiettivo Che volevo Volevo lavorare in un ambiente così E rischi però Che poi non è davvero La persona che stai cercando Sai qual è il contro Invece di prendere uno Veramente bravo e stimolante Però il contro Il contro è che Generalmente è una persona ambiziosa E la devi far crescere Quello che si siede Quanto meno si siede E rimane là La persona ambiziosa generalmente A un certo punto ti dice Ok dammi delle quote Ok Voglio fare un progetto in più Finanziamelo Ok Oppure discute con te O anche ridiscutere lo stipendio Ogni tot Cioè comunque Sì Se non gli fanno determinato Cosa che in Italia È veramente difficile Ogni rinnovo Vuole un po' di soldi in più Ma quello pure Quelli che sono seduti E poi anche avere Secondo me sai Cosa è l'altra cosa Dell'ambizio Cioè però Allora Sono d'accordo con te Però dall'altra parte Se non hai persone ambiziose Non si muovi la baracca Cioè inteso No è bellissimo È come un allenatore di calcio Cioè l'allenatore grande È quello che sa gestire Tutti i talenti Fuori classe Anche sono tutte delle prime donne No è bellissimo È bellissimo Però L'altro giorno ero con un mio amico E lui ha delle persone molto brave Con cui lavora E iniziano a discuterci E io anche ci penso Io non discuto mai Con la gente che lavora con me Cioè è difficile Che io gli dico Di fare una cosa E loro mi dicono Che non ha senso E invece loro Lui ha detto Questa roba La faccio in questo modo E loro no Dovresti farla in un altro modo E se fossi io No la faccio in questo modo fine E invece Avviene una persona Che discute con me Però con cognizione di causa Che mi dice due cazzate Perché non è Per niente competente Perché sono domani tutti No Esatto No Marcello Non lo facciamo Se uno però Ha addirittura La competenza Il fuoco Che si è impegnato È un'idea Diversa dalla tua Anche se magari Magari ci sono momenti In cui non ti devi rompere i coglioni Perché le cose vanno fatte velocemente Però in quel momento là E cioè Quello è È un grande traguardo Mi piace come comunque Non lo dici Che non ti devi rompere i coglioni Sul podcast Perché se no da domani Io mi immagino Poi c'è anche il momento In cui Le cose vanno fatte velocemente E ho presente perfettamente Il fenotipo invece A cui piace discutere Invece no In quel caso Meglio fare le cose Piuttosto che fare un piccolo errore Allora noi Noi questa cosa qua L'abbiamo Noi questa roba qua L'abbiamo raggiunta negli anni Cioè negli anni A un certo punto Abbiamo raggiunto Una linea di Io chiamo di management Sì Ok Di persone che ho vicino Che so che sono persone Che vogliono discutere Ok Poi dopo Lì sta nella loro capacità Di imparare a conoscerti Cioè di imparare a conoscerti E di capire Dal tuo sguardo Dal tuo modo Eccetera Quando è il momento Di discutere E quando arriva il momento Dove Comunque tu sei l'imprenditore Quindi loro devo mettere Da parte la loro idea Per dire Ok comunque La decisione alla fine Aspetta a te Luca scusa Mi fai vedere la faccia Che fai Quando non hai il momento Di discutere No in verità In quel momento lì Smetto di pensare Lascio parlare Moltomente capissimo Che sono annoiato Messaggio e tutto Non lo so Sono una brutta persona Perché anche poi Io invece ho tanto a che fare Anche con tutti i team operativi E mi rendo conto Che per quanto io Allora io odio Dire Facciamo questa cosa così Cioè la strategia è questa Applichiamo Ok Perché credo Crediamo In realtà Questa fa parte Della nostra cultura aziendale Che quando le decisioni Non sono calate dall'alto Il risultato è molto 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 migliore Quindi discutere talvolta E anche confrontarsi Semplicemente Ok Mettiamo a terra Sta strategia Sinceramente a me Fa molto piacere Quando qualcuno Dice no Secondo me così Facciamo una cazzata Perché invece Se facessimo così Bla 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 Magari ti porta Forse ancora meglio Uno che ti dice no Che sembra un po' Un contrasto Qualcuno che ti porta Dei controesempi No esatto Il no non può mai essere Il no non c'è No e quindi Argomenta Esatto Magari invece ti dice Bello però L'imprenditore Y Che segue su YouTube E tu magari non hai visto Il suo video Ha fatto quest'altra cosa Sicuri che non vogliamo Fare quest'altra cosa Vuole sentirsi dire Bello al posto di no Ricordate Se lavorate con Marcello Cioè ha detto la stessa cosa Però al posto del no Ma deve essere Bello ma Esatto Esattamente Poi ci sono delle volte Ed è quello che dico io Agli altri Bello Bello L'altra persona Poi ci sono delle volte Dove Basta Va fatto quello Si fa quello Non c'è tempo Quanti siete voi in tutto? Tanti Tanti Tra 50 e 60 Eh vedi Perché noi siamo in 10 Perché questi discorsi Possono sognare Perché io sono ancora In quella fase in cui Ogni persona Mi riporto diretto Ok Quindi C'è chiaro Con loro rapporto In questo momento Sono in fase Mi immagino fra due anni In questo momento Spero di Di scalare un po' di più Anche con il mio canale personale Quando poi inizi a non avere più Il rapporto diretto Per me l'inizio è stato uno shock Eh infatti È stato uno shock Perché volevo avere Il rapporto con quelle persone Perché volevo mettere sempre becco E poi a un certo punto Ho capito che non era così Anche grazie molto a Elio Perché Elio per me è stato La persona A cui io Soprattutto nelle scelte di marketing Cioè lui era il direttore marketing È il direttore marketing Non più di company Però Di un'altra azienda E in company invece Facevo con lui Il piano marketing Facevamo le cose E poi dopo lui Applicava E faceva strategia Con tutto il team E io tante volte Quello che ti dicevo prima Io al posto di Vedere una cosa Se non mi piaceva Entravo a gamba tesa Raga Fa schifo sta roba Non si fa così Facciamola diversamente E lui Lu Lasciami fare Lasciali sbagliare Poi mi dici Cosa non ti è piaciuto E lo facciamo notare E questo però Ha aiutato tanto Perché se no A un certo punto Il team era Quasi intimorito E quindi chiedeva approvazione Per ogni cosa Dice no Magari poi a Luca non piace Ok Dato che stiamo parlando di HR Una cosa figa Che io ho visto Lo scorso anno E che stiamo applicando Quest'anno E sono io che HR Non so se Perché io ho visto Un tiktok Di una tipa Siamo pure mezza fufa Però un tiktok Mi piaceva E diceva Se volete avere un team Che funziona Dovete dare un solo obiettivo A ogni dipendente Un obiettivo misurabile Quindi Non esiste Lavori bene e lavori male Esiste un solo obiettivo Che può essere le vendite O può essere Il numero di clienti chiusi O può essere Quanti video hai fatto Non lo so Un numero Banalmente Se sei customer care E quanti tiktok hai gestito Con una valutazione superiore a tot Esatto Io ho riportato questo consiglio Ai miei soci Mi hanno detto Sì sì ma questi sono io Che HR Che utilizza Google Loro in gambe Già li utilizzavano Da quest'anno Lo stiamo utilizzando Anche in flatmates Perché poi Io rinnovi Lo trovo emotivamente Difficile da gestire I rinnovi di dicembre Per rinnovare i contratti E se non ho Delle cose pratiche A cui Cioè Delle cose misurabili A cui aggrapparmi Mi riesce molto più difficile Andrò dalle persone A dire Non ti faccio Anche solo l'aumento Noi abbiamo sempre Dato aumenti Da dove noi siamo partiti A tutti quanti Nessuno ne abbiamo mai negati Però so che Dovremmo iniziare a negarli Prima perché Noi possiamo C'è il compounding Mi sa parlare Avete ancora poco tempo Per farvi assumere da Marcelle C'è veramente No a qualcuno E prima o poi Se c'è un modo obiettivo È molto più facile dire Sì no E poi Tutti gli imprenditori Che intervisto Mi dicono Una cosa difficilissima È licenziare O non rinnovare Perché chiaramente Non è sempre tutto Un euro bianco Certo se uno È proprio scemo Scemo Ed è anche magari maligno Lo fai fuori E sei pure felice Ma spesso Ha gente che è metà Metà Magari è proprio Poco sotto la soglia Oppure sai che maturerebbe Se tu avessi il tempo Di dare gli strumenti È difficilissimo Madonna È la cosa più difficile Però se tu hai Diciamo dei dati A cui aggrapparti Secondo me Riesce a essere Molto più analitico Anche verso te stesso È la difficoltà Gli OKR Noi non usiamo gli OKR Ci diamo comunque Degli obiettivi E tendiamo a dare A ogni nostro collaboratore Un obiettivo Ma gli OKR in sé Quindi di averne Tre Poi Cioè Il macro Che poi dopo va sempre Nel micro E tutto così L'ho sempre trovato Troppo complesso Da riuscire a rendere Però dagli OKR Quello che noi abbiamo preso È capire Qual è La sfida Che ognuno Io dico Qual è Come fai ad arrivare A quell'obiettivo Col minor numero di battaglie Perché come vinci la guerra Col minor numero di battaglie Una volta capito quello Allora quello È il tuo obiettivo E andiamo a misurare quello Però tutta la sistema Della struttura Di OKR eccetera Non l'abbiamo fatta Perché C'è soltanto per organizzarla Noi Ci schiantavamo Io non so Se riuscite Sono molto curioso Però poi di vederla E farmi insegnare Io non so Se stiamo utilizzando Il metodo classico Perché l'ha fatta Michele Io non ci ho messo a becco Ha fatto una cosa lunghissima In cui l'ha spiegata a tutti Però non mi sembra Complicatissima Mi sembra Forse ha fatto una versione Ci sta Magari l'ha riadattata All'azienda A quello che hanno Visto in gambe Penso che abbia fatto Una versione velocizzata Perché gli okrar di Google So che sono complicati Faremo un prossimo podcast Michele Per parlare di OKR E di come renderli applicabili Lui è un fan Di queste cose Lui si fa i okrar Anche nella vita sua Privata Ci sta Le persone così Servono per queste cose qua Sono ottime Comunque sì Il fatto di dare obiettivi È importante E quello che hai detto Prima La crescita Cioè le persone Vogliono una crescita E io mi sono reso conto Che a un certo punto Della mia carriera Imprenditoriale Diciamo così Mi sono seduto Cioè era nella fase In cui tu assumi Ma sei una startup Perché sei appena nato E quindi sei una startup E quindi assumi Anche sul trovare Il tipo di contratto Il pagamento economico E tutto Allora siamo una startup Quindi mettiamoci d'accordo Facciamo così E per due tre anni Eh ragazzi Siamo una startup Pagliamo poco E ho detto Non siamo più una startup Che cazzo Posso continuare a dire Non siamo andati da poco E quindi la gente Che lavora da te Inizia a dire Ok io sono contento Di lavorare con te Per sette, otto, dieci anni Però voglio capire Dove posso arrivare Cosa posso fare E questo è Quando hai persone ambiziose Devi mettersi in testa Che tanto del tuo tempo Va passato nel gestire Anche se hai un HR Nell'HR Che ti continuerà A far domande Allora Luca Come organizziamo La crescita di questa persona Luca ma quali sono Gli obiettivi del team Per l'anno prossimo Luca 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 Sì poi ci sono persone Che hanno Io sono notato Che le persone Che hanno già lavorato Prima di venire in flatmates Sono molto più realiste E oneste Nel valutarsi Qualche persone L'abbiamo presa Fresca fresca Di università così Facciamo più fatica A fare capire In base a quale principio Si guadagna totte In base a quale principio Perché non ti pago 5.000 euro Te ne pago 1.000 o 2.000 Quello che è Chiaramente In base alla signority In base a quanto sai gestire In base a quanto si guadagna Eccetera Eccetera È molto più difficile Quello Tant'è che io Sono felice Sono ambizioso Mi chiedo un aumento Però succede In realtà spesso Che non ci sia poi Una motivazione reale sotto Cioè tu non puoi Se chiedermi Se non l'anzianità Se non perché esisti O perché mi dici Si l'ho fatto lo scorso anno Perché ti ho chiesto meno Perché ero appena arrivato Ora per fare le stesse cose Ti chiedo di più Perché Diciamo Questa scommessa Non c'è più È logica Funziona Però le cose vanno fatte quadrare Ma infatti Nelle aziende serie Perché noi non abbiamo il tempo Di farlo Molto ovviamente Però vorremmo provare a farlo È Ci sono le review Che sono con il Ma noi adesso le facciamo le review Ci sono le review Però loro hanno un piano di carriera Quando entrano in azienda Quindi loro sanno che Se dopo due review semestrali Hanno ottenuto un voto positivo Allora hanno l'aumento Se no Quindi non c'è più uno Che viene a chiederti l'aumento Sa quando ce l'avrà o no E ci sono anche Innanzitutto ci sono anche I contratti a tempo indeterminato Che comunque Noi per esempio ancora non diamo Per cui ci chiedono l'aumento Ma anche perché li rinnoviamo Quindi è il mercato del pesce Quindi io ho lasciato Che tu mi chiedi di più È una negoziazione Noi abbiamo tanti indeterminati invece C'è un parolato negativo Nelle grandi aziende Che tu sai addirittura Che le persone a tuorio Lo guadagnano come te In tanti casi Perché ci sono gli stipendi Che sono organizzati Proprio da Dai CCNL Dai contratti nazionali I contratti nazionali Però poi ci sono delle cose negative Perché sono lenti Cioè gli scatti di carriera Sono lenti Se tu ti fai il culo In un'azienda grande Prima di avere dei risultati Ci metti tempo Quindi è anche un po' il bello Di essere un'azienda piccola Che dove non hai abbastanza i char E non è tutto normato È anche quello che vieni Certo Diciamo i tuoi sforzi Vengono ripagati più velocemente C'è molta più meritocrazia Secondo me C'è più caos Ma viene premiato prima Sì E come Parliamo Cambiamo un attimo argomento Ecco Basta i char Che viene un'ansia Com'è la tua quotidianità oggi Marcello Ascani Perché una volta Invece hai una casa a Milano Un ufficio Ecco Allora il mio mese Fai che due settimane almeno Sono molto simili Cioè sono 14 giorni molto simili Cioè mi sveglio Verso le 8 Alle 9 e 9 e mezza Sono già in ufficio In ufficio sono o da solo O ci sono i soci O sono fortunato Di un giorno in cui C'è un via vai Di persone dell'ufficio Perché magari Anche se le avranno dare moto Ci sono dei progetti Che facciamo negli studi Perché io ci sono fortunato Ci si diverte un po' Si parla Si chiacchiera Si cazzo No Vai giornata libera E vai Oggi giochiamo E mi auto E dal vivo Le cose si gestiscono meglio Quindi se c'è una riunione Una cosa Generalmente poi La mattina cerco di dedicarla Più a flatmates Ma perché mi arrivano Un sacco di Chiamate mail inaspettate Spesso Mi metto anche un buco A calendario Scrivo scartoffie Perché so già Che se ci metto una roba Da fare importante L'app Non la faccio Perché mi distraggono tutti Quindi Generalmente quella parte È molto La dedico a quella Si singoli task Urgenze eccetera eccetera Poi mi metto Dei task chiave Della giornata Oggi è registrare un video Domani è Dedicarmi a Quindi sono cose Che fanno andare avanti Il mio grande piano Generalmente E poi il pomeriggio È più su youtube Il pomeriggio sera È più su youtube Quindi registro i video Scrivo i video È più tranquillo Diciamo Pomeriggio sera Perché comunque Ti trovi a lavorare Anche la sera Io lavoro fino alle Sette, sette e mezza Entro le otto Sono a casa Si scena Poi dopo scena Non lavoro Ok Esatto Poi c'ho al mese Scusa Ti sei dato questa routine qua Adesso La tua routine è Molto più standard Un lunedì, venerdì O poi ti trovi anche Il sabato e la domenica Lavoro Il sabato La domenica non lavoro Ok Perché convivo con una ragazza E mi uccide Già sei giorni lavori Quindi Esatto Esatto Giusto Siamo fidanzati Per farlo vedere Che siamo fidanzati Che se no È scritto E poi invece dieci giorni al mese Più o meno Viaggio di solito Però magari trasferte di lavoro Ok O se non viaggio Magari mi permetto di fare tardi Ecco c'è dei bonus Quindi magari è successo Che ho fatto quasi la notte Per finire alcune cose urgenti Ti permette di fare tardi Per lavorare però Sì Ok Mi metto di far tardi Per divertire Invece no Per lavorare Per lavorare E allora nel tuo mese Come fai Cioè A parte le domeniche Sì Cioè nel tuo bilancio mensile Tu sai che hai tot giorni di vacanza Sono solo quelle quattro domeniche No non sono vacanze Sono giorni in cui posso lavorare di più No no Io ti sto dicendo Al netto del lavoro Ah ok Del lavoro Ok Sì Ti prendi del tempo Durante il mese Io mi prendo le domeniche Ok Che sono tantissime Tre o quattro domeniche Sì no Perché poi c'è anche la domenica In cui invece sono fuori E quella è il lavoro Di solito Ok Tipo domenica scorsa Era Zurigo Ed è felice Lì dice E fai Allora mi piace Poi tornare a casa Cioè mi sono un po' abituato Quindi tipo la domenica Che non lavoro Sì all'inizio avevo ansia Adesso mi piace Sono più organizzato E poi c'è da dire che Quando lavoro Dalle nove e mezza di mattina Alle diciotto Quando lavoro Dalle otto di mattina Alle venti e tre Non è che lavoro di più Mi distraggo molto di più Cioè da dire che però Mi ispiro di più Per cui i giorni In cui faccio come mi pare Faccio ragazzino Adolescente Però magari il giorno In cui mi guardo anche i podcast Che ero arretrato di mesi Che non mi guardavo Ok E perché comunque questa Sì è un qualcosa Da non voglio sdoganare Il cazzeggio E lo scrollare Però c'è il Il lavoro creativo Cioè il fare un podcast Presume che in qualche modo Devi imparare a intervistare Una persona E vuoi capire anche Come intervistano Le altre persone Cosa fanno gli altri Vuoi ispirarti E tutto Idem per fare video Ma idem Vuoi farlo imprenditore Hai bisogno di prenderti Del tempo dove Leggi, studi O guardi dei video O ascolti qualcuno Che ci è già passato E tante volte Questo tempo qua Lo consideriamo Non lavorativo Tipo me lo farò Nel mio giorno libero Ma invece cazzo È una parte fondamentale Del lavoro Infatti In realtà Ecco quando ero youtuber E basta Io dedico tante ore A guardare contenuti E il bello è che non c'era TikTok E quindi È un ramodo diverso Di guardarli Cioè mi insegnavano Tanto di più E quindi Quella parte di ispirazione C'era di più in passato L'ho persa Quando ho creato Questo bilancio Mi dà lavoro Un po' più rigido E poi ho chiesto Questi bonus Proprio per farmela tornare Ho chiesto A mia ragazza Ho negoziato Con mia ragazza Che quelli che erano I miei giorni di viaggio In ogni caso Erano giorni che mi sarei preso Per me stesso E lei per se stessa Perché è utile Avere dei giorni per se stessi E per esempio Questo mese Faccio 5 giorni 5 giorni Perché ho due trasferte E ho appena fatto Questa trasferta in Svizzera Poteva durare anche Solo due giorni Ma l'ho allungata Così passavo un po' Di più di tempo Quelle persone che intervistavo Un giorno l'ho passato Nel semplicemente a Nutella A guardare i miei podcast A fare le mie cose La sera ho lavorato E è stata una figata A foto adolescente Però ora sono ben contento Quindi è un bel bilancio Ci sta Figo questo Marci Sto qua sempre Sì Al di fuori Dell'attività Di lavoro Di imprenditore Di creator C'è una cosa Un guilty pleasure Qualcosa che fai C'è tipo Dipingi Oppure C'è sta qualcosa Che nella tua vita Che non c'ha Che fa per niente E non parlo Tipo che ne so Guardassi Una serie su Netflix Eh no La guardano tutti Una serie su Netflix Beh c'avevo la maratona Ho smesso pure quello Dannazione Ho corso La maratona di Milano La maratona di Atene La maratona di New York Poi lo scorso anno Non l'ho corso A me vado l'avanza Altre cose Mi piacerebbe Riprendere la parte Di disegno In realtà però Non la sto facendo Non ho neanche letto Devo dire Pochi hobby adesso Pochi hobby Torneranno ad esserci Ok Purtroppo adesso Quindi nella pianificazione Del 2024 Hai messo del tempo Per dedicarti di più A queste cose? No 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 2025 5 5 6 7 20 30 Ora c'è il grande piano Ora c'è il grande piano Che è lavorativo Beh comunque ci sta Se la vita è fatta di cicli Ci sono dei momenti Dove uno vuole spingere Di più sull'acceleratore In una cosa E magari per un attimo Si scorda anche Di qualcos'altro Sì 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 Essere consapevoli Secondo me Fino a quando Ci stai così E fin quando non diventa Un peso E diventi un po' vittima Del tuo grande piano Tra virgolette Sì Comunque ogni anno Fortunatamente Il grande piano Si può riguardare Ecco si può modificare Beh certo Con i tuoi video Anno per anno Lo sapete perfettamente Una bella traccia Quindi puoi andare A riguardare Rispetto a quello Che pensavo Com'è andata Esatto Sì sì Tra le varie cose Che fai Marci Hai il corso Quello che vi hai detto Prima Tube Mastery Bellissimo Tra l'altro Girato molto bene Una fotografia Incredibile Ma vogliamo parlare Del marketing Che hai fatto Secondo me È interessante Noi appunto Ti aiutiamo Nello sviluppo Del prodotto Ma soprattutto Nella parte di marketing All'interno di Tube Mastery Secondo me La parte interessante È quando Hai capito Che poteva aver senso Farti aiutare Da qualcuno Piuttosto che Continuare da solo Allora Diciamo che Quando l'ho preso da solo Io ho fatto tanti errori Tipo Decidere di sviluppare Il sito web Con una persona Che mi aiutava Un professionista Fare tutto in casa Perché Così ero libero Di farlo trasformare In quello che volevo In realtà Già quello è stato Il primo errore Sarebbe stato una persona Che fa questo Il lavoro Per spiegarmi Che era la cosa Più stupida da fare In generale Se fosse L'unico progetto Nella mia vita E io vivessi Per Tube Mastery Lo farei io E avrei l'obiettivo Di diventare bravo Come voi Chiaramente Però non è l'unico progetto Una di quelle cose Che vale la pena Sicuramente Rimanere ad essere Dove sono solo Il valore aggiunto E tutto il resto Relegarlo E sapevo che voi Diciamo Facevate esattamente Questo di lavoro E quindi mi è sembrato Natural Al posto di assumere Una persona Per quello Poteva essere Un altro passaggio Ma non era Quello che volevo fare Ho detto Vabbè Piuttosto Andiamo in partnership Con una persona Che lo sa fare Semplicemente Le differenze Si vedono comunque Beh certo Perché più che altro È sempre quello Che dicevi prima te Cioè capire dove uno È un valore aggiunto Cioè il nostro tempo È finito Si Ok È il tempo bonus Quindi il nostro tempo È finito E non possiamo fare tutti E secondo me La grande difficoltà Non per forza Quando fai l'imprenditore Ma anche quando fai Il professionista Ma anche quando fai Il dipendente È capire dove Metter la tua energia E dove spenderla Si Cioè se no Se rischi di spendere troppo È come se fosse tutto urgente Tutto devi fare Ma poi non riesci a creare nulla Per il lungo periodo E arrivare a uno sviluppo Più importante Tante volte magari Ti stressi per una cosa E poi dici Ma se non l'avessi fatta Non sarebbe per niente Crollato il mondo Perché ero così stressato Per fare questa cosa Allora piuttosto Inizio a dire di no Oppure in questo caso A trovare partnership Eh perché poi Dall'altro lato Rischi che siano opportunità perse Perché il tempo è limitato Non posso occuparmi Me ne occupo Per quel che posso Addirittura abbandono È però peccato Pensa se avessi abbandonato Sì Se hai un modo Qua rientro un po' nel via O no Perché in questo caso Magari vi conoscevo Allora va bene Magari un'altra cosa Avrei detto O lo blocco O lo faccio Per i cavoli miei Però magari tutto in organico Senza strategia Ok Magari avrebbe venduto Quel quarto Che vendeva già prima E basta Rimaneva la stelte Ok Poi magari il giorno Che incontravo Quello bravo Da assumere Però fra anni Che non so È sempre il discorso Che c'erano prima C'è una cosa Alla fine Le cose Non è che si decidono Ma accadono Cioè moltamente Se non ci fossimo conosciuti Non è che dicevi Vado a cercare qualcuno Invece conoscendoci E sapendolo Allora dici Lo potremmo fare È molto difficile infatti Di dare dei consigli Che vanno bene per tutti Perché poi Spesso ci sono delle opportunità Uniche nelle vite Delle persone Che vanno sfruttate Ecco Sono opportunità Che uno si crea Vivendo Cioè vivendo alla fine È vero Alla fine Però ogni vita Crea delle opportunità Che poi dopo uno decide Se sfruttare O non sfruttare Tra l'altro Col tuo corso Cioè che per te È un asset Per due motivi Secondo me Cioè da una parte È un asset Perché è un income È un income Dal lavoro di content creator Che fai Quindi ok YouTube mi paga Le sponsorizzate Mi pagano In più c'è gente Che mi segue Vuole imparare questo Posso guadagnare E dall'altra Con Flatmates Ho visto da un tuo video Che avete preso Un creator Che ha seguito Tube Mastery E l'avete portato Dentro Flatmates Sì Spero non sia l'unico Nel senso che io Già da tempo ci pensavo Che Tube Mastery Potrebbe tranquillamente Essere un Un funnel Un canale Per trovare creator Da far lavorare Poi con Flatmates Non per forza Nel nostro manager Ma anche per portargli Brand Alla larghissima Già succede anche Con altri piccoli creator Che non sono In agenzia con noi C'è da dire Che comunque Purtroppo Poi venendo corsi Scopri anche Che tante persone Le comprono tanto per I corsisti di professione I corsisti di professione Però poi quando vedi Quelle persone che crescono Ti fa piacere Mi piacerebbe Infatti poi Ne parlavamo spesso insieme E modificare anche Tube Mastery In modo che sia più orientato A questo tipo di percorso Quindi magari Renderlo un prodotto più volto Diciamo per chi poi Veramente vuole diventare Un professionista Ma questi sono discorsi Che stiamo ancora Sono in corso Però per quanto siano Ancora in corso A prescindere Dallo specifico Non entriamo nel merito Però posso dirti Che da parte mia E da parte nostra Parlo a nome di Accelerator È una delle cose Che ci ha Che ci ha restituito Di più Ora Trasciamo un attimo Un aspetto economico Che comunque è importante Perché poi tra l'altro Su questo canale C'è un video Di Botto Di andare a Bottoni Che è quello Del marketer's world In cui racconta anche un po' Che cosa abbiamo fatto A livello economico Con il tuo prodotto Però ecco Oggi noi ci troviamo A sviluppare Noi abbiamo iniziato A collaborare Per una cosa specifica Cioè fare marketing Vendere quel prodotto esistente Dopodiché Oggi abbiamo costruito Insieme Un nuovo asset Un migliorato Un nuovo asset Che è quello E la newsletter E oggi ci troviamo A come sviluppiamo Il prodotto Come lo portiamo avanti Questo da parte Cioè per noi È sicuramente qualcosa Cioè è un feedback positivo Ecco mettiamola così Siamo partiti da fornitori Perché alla fine Quello eravamo E ora siamo partner veri Perché ci stiamo chiedendo Ok Sto prodotto Per spaccare Cosa è probabilmente Certo È una cosa che non può essere fatta Ora a prescindere A collaborare con noi O no Per una cosa che non può essere fatta Se è una cosa Tra le tante Eh sì Deve essere il tuo obiettivo Numero uno Cioè Non dovrei avere flatmates Dovrei dedicarmi solo Al vendere infoprodotti Aver solo la Marcello Ascani Esatto 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 Come ho già detto questa Paolo C'era già questa Nel podcast In forma diversa Eh sì In forma un po' diversa Quindi vabbè Prima di flatmates C'è un progetto imprenditoriale fallito Che è durato pochi mesi Ma mi ha drenato energie Soldi Tempo Anche se mi ha fatto imparare tanto In poco tempo E mi ha preparato a flatmates Però è esatto Infatti quindi Quello lì Non lo faresti O dici cazzo Invece ci stava farlo No Non lo farei Perché ci metteresti Magari un po' meno soldi Non lo farei Perché ho avuto la fortuna Che poi in flatmates Sono fortunato Quindi anche se Fossi erato un po' più naivo Un po' più scemotto Magari poi Quelle cose le imparavo Senza farmi così male E poi chi lo sa Magari invece mi sono risparmiato Un milione di delusione Più in là Questo non lo posso sapere In ogni caso Ho imparato molto di più A dire di no E poi sì Tanti piccoli progetti Sono difficili a nominare Ma sono tantissimi Ogni anno Io La metà delle cose A cui dico sì E poi dico Forse potevano dire sì Quindi Quest'anno la sfida È proprio dire di no Quindi diciamo che Un consiglio potrebbe essere Alle persone che intraprendono Un percorso Che sia da creator Da imprenditore Professionista Quello che è È imparare a dire di no Direi In realtà È un happy problem Cioè io il consiglio Invece è proprio quello Di dire di sì Cioè io vedo che Il problema molto più comune È l'opposto Anche nelle persone Tornando alle char Vaffangate Tornando alle char Un problema comune Che le persone Non vedono le opportunità Cioè non vedono Dove esistono però Ti chiedono Dove è l'opportunità di crescita C'erano davanti L'opportunità di crescita Chiaramente Quindi Le persone io dico Siate yes man Chiaramente Arriverà il momento In cui vi accorgerete Che bisogna essere uno man E se non sapete Come a me dire di no Lo imparare con le cattive Però bisogna arrivarci A quel momento Chiaramente Cioè sono felice Di essere in quel punto Dove ho così tante opportunità Che devo dire di no Chiaramente Poi non mi conviene Perché io voglio avere Ancora più in alto Però già sono qua E ci sono arrivato Imparate a dire di no No man fino a un certo punto Del proprio sviluppo La propria carriera E poi no man E io direi Questa è molto figa Questa risposta E su questa io chiuderei Perché secondo me È stata davvero Una bella chiacchierata Marci Grazie È stato con noi È stato molto figo Grazie a voi Ti rinviteremo Perché siamo curiosi Di sapere Gli sviluppi del 2024 Quindi Ci vedremo nel 2025 Per un'altra puntata Del podcast E invece nel 2024 Aspetteremo Michele Così parleremo di Ok 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 Esatto Esatto È molto interessante Grazie Marci È stato davvero un piacere E noi ci vediamo invece Giovedì prossimo Per una prossima puntata Ciao 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 Grazie a tutti